L'impresa è compiuta, il volley Arezzo torna in Serie C. Con la vittoria casalinga di sabato ai danni di zona Mazzoni, la squadra allenata da coach Peruzzi si classifica matematicamente seconda con una partita di anticipo rispetto alla fine del campionato. Un palamecenate vestito a festa e affollato di un pubblico caloroso ha spinto la formazione rosso-blu alla schiacciante vittoria per 3-0, regalando ai tifosi e alla società l'epilogo perfetto per un sogno che sembrava proibitivo all'alba del campionato. La festa sugli spalti a fine partita sottolinea ancora di più l'identità di una società che vede questa vittoria come un punto d'inizio su cui costruire, dove il primo passo sarà quello di mantenere l'obiettivo raggiunto nella prossima stagione. Prima di questo però manca ancora un ultimo atto per questo campionato così intenso. A meno uno dalla capolista Migliarino, il volley Arezzo potrebbe giocarsi il primo posto in una trasferta molto difficile a Livorno, contro il Borgo Rosso Volley, dove la voglia di vincere, nonostante il risultato raggiunto, sarà fondamentale. Fondamentale